Atterra là! Mi muovo di qua! Push e salgo da qua! OI! Colpi botanile d'arresto! Come fa? Beh, si è rassato! Domi, perché sei sceso? No, vabbè, no, figlio che si è postappato! Dovano ammazzare così, non esiste! A qualcuno, così a quattro! Poi, ragazzo, ma... Mi avevano fatto senza senso! Hanno specialista questi! Via, via! Vabbè, lo possiamo comprare! Ma su, camminando, mi chiavava! Ho visto le fermi all'esporto! Mi devo far ammazzare! Tieni questo! Ce l'ho io! Uno vuole e ce l'ho io! Dove sono io? No, specialista, ne avanza uno per ne uno! Sì, però dovete muovervi! Dove, Domi? Sotto là! Dal fior di sotto! Boh, non lo so, forse hanno solo due! Uno ce l'ho io! Eh, prendo le stanni! Sì, così si rivela! Via, via! Finchioli, stai perdendo troppo tempo, per favore! Contatto! Contatto! Non lo so, per questo! State perdendo terreno! Ma specialista ce l'hai due che tre! Sì, lo sì ce l'ho! Sì! Questi hanno un'altra zona! Allora! Vabbè niente! Non mi facevo l'odore e salvo!